Ha riaperto questa mattina all'ospedale di Paternò l'ufficio Ticket che è stato collocato sul lato destro rispetto alla precedente collocazione che si trovava sul lato esattamente opposto. L'utenza ci ha segnalato disagi rispetto ai giorni di chiusura dell'ufficio, slittato anche di due giorni rispetto alla data ufficiale che era prevista per la scorsa settimana. L'utenza, soprattutto più anziana, ha avuto difficoltà a pagare poiché non tutte le tabaccherie erano abilitate alla riscossione. Anche il sito dell'ASP non ha fornito informazioni esatte, creando ulteriori disagi. Dunque da oggi l'ufficio Ticket ha riaperto e non si sono segnalati disservizi. Tuttavia all'orizzonte se ne intravede qualcuno, l'addetto è solamente uno e quindi questo potrà causare disservizi in caso di assenza. Che criticità ci sono? Ma intanto la criticità prima è che sono rimasto io da solo, non ci sono altri riscuotitori Ticket. Quindi queste criticità che ci sono state si possono ripercuotere anche dopo quando dovrò prendere le licenze perché non c'è nessun altro come riscuotitore. Il locale è agibile, non è che ci sia a Granghie i vetri perfetti, però la criticità maggiore è il personale. Sarà una collocazione definitiva oppure si prevede un altro sporsamento in futuro? No, da quello che ho capito io sarà una collocazione definitiva in cui dovranno dare un'altra stanza attaccata qui al laboratorio, dove per ora c'è l'ex laboratorio, in cui verrà messo l'archivio. Per cui per ora siamo in fase di assestamento. Però l'utenza deve aspettare in uno spazio che è comunque aperto, quindi adesso magari è più temperato il clima, ma in inverno oppure in estate con il caldo forte potrebbe essere un problema? Ma da sempre, da quello che ho sentito, perché c'è anche un direttore dei lavori eccetera, so che dovranno mettere dei pannelli di plexigas là in modo tale che non passi né il freddo né il caldo.